Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Supermaster 3000 E niente, questa è la mia vostra reveal Ve l'ho promessa 500 iscritti ma non me la sentivo di farlo Non credo di fare molti altri video parlantini Però se ne volete altri mettete un bel like ozzo Dunque, fino ad un anno fa mai vi ho pensato di arrivare a questo traguardo Cioè ai 1000 iscritti Se mi paragonano altri youtuber sembrano pochi ma per questo Per me questo è un grandissimo traguardo E vi ringrazio ancora per tutto il supporto che mi stai dando Veramente, grazie Dunque, non so che altro dire in questo video Quindi rispondiamo qualche domandina Allora, la prima domandina è del nostro Matteo Che mi fa ben 10 domande Un pazzo Allora, iniziamo Qual è il tuo amico più alto che hai? Allora, attualmente è Alex, qua è 73.000 coppe E fin qua ci siamo Anche se non ci parlo da molto tempo però Beh, mi spiazza per lui Poi, qual è il giocatore in cui giochi di più? Beh, in questi ultimi mesi ho scaldato molto con Spark in 2 Quindi ti direi lui Assolutamente Poi, quante ore giochi al giorno a Brawl? Allora, al giorno all'incirca solo 2 ore Poi, quando faccio dei push Tipo per anche 25, nuovi Brawler Posso arrivare anche fino a 15 magari Fino a 5 Fino a 5 Poi Hai le mutazioni di tic? Allora Quando usciva questo video Sarà passata quasi una settimana Dalla fine delle mutazioni Però sono riuscito a trovarla Miracolo GG a me Poi Push Ranked Fami t3 Così facciamo leggendo con me Speciali 1000 iscritti Beh, guarda Questo è il secondo speciali 1000 iscritti Quindi direi che gli speciali 1000 iscritti Possono anche bastare Direi Comunque pensavo di push all'aranched in estate Quando avevo un po' più di tempo libero Allora ci faremo leggendo insieme In un altro video Ok? Poi Top 5 dei tuoi brawler preferiti Beh, allora Al quinto posto Sandy perché mi piace Al quarto Taro perché anche lei mi piace Al terzo corpo che è stato il mio primo leggendario Non si potrà mai scordare Al secondo Ivo perché mi piace un botto La sua meccanica di andare sull'acqua E al primo posto ovviamente il mio ticchetto Che è stato amore a prima vista I love you Poi adesso mi chiede la cosa apposta Cioè la top 5 dei brawler che ho di più Beh, al quinto posto Buzz Che quando mi stun perdo sempre Al quarto Sandy perché mi piace giocarlo Ma quando me la ritrovo contro Da sempre un botto di noia Poi Al terzo Mortis Perché quando me lo ritrovo alleato Perdo sempre Perché i round 2 Lo mettono sempre in ranked Gigi a loro Poi Secondo Mandy Perché con la sua super one shot Quasi tutti Se non lo banno in ranked Perdo O me lo trovo in KO Ci distrugge Poi Al primo posto assolutamente Dynamike Ma completamente Non riesco mai a counterarlo Con i suoi gadget Perché è un trover Perché io Giuro di trover Non riesco mai a fermarli Poi Quante skin ci andare ai? Attualmente ne ho tre E sono Ambra e regione di ghiacci Boom Mesh bianco E copo Mesh notturno Le due skin Mesh Si potevano comprare Che pure di stellari L'ambra e regione di ghiacci L'avevo comprata Quando costava 150 gemme Quindi a posto Poi Top 5 Giochi preferiti Allora Quinto posto Tumbleguice Perché ormai non gioco più Però mi piaceva la sua meccanica Quarto posto Pokémon GO Che l'ho installato da poco E mi sta abbastanza piacendo ultimamente Poi Terzo posto Monopoly GO Perché è un ottimo passatempo Quando sto al bus Sul bus Secondo posto Toshib Perché è stato il mio primo gioco in assoluto E il primo posto Come sempre Brawl Perché mi piace molto come gioco L'unica pecca Che mi fa molto arrabbiare Eh che ci posso fare Poi Quali mutazioni hai E quale intenzione di pushare Allora Prima che finiva l'evento Del Godzilla Avevo in totale 29 mutazioni Me le sono scritte Io ne te le dico tutte adesso Che erano di Bea Angelo Nita Penny Stu Tick Shelly Corvo Carl Melody Posho Brock Meg Colt Connello ringhio Mandy Il primo Hank Rosa Stecca Pam Eve Bonnie Bell Leon Piper Jeanette Buzz E Grom Tutti le ho dette Poi Però le mutazioni Avevano un po' Rovinato il ladro Quindi non ho deciso Di non pushare nessuna Ma Ma vabbè Adesso in istante Ritornerò più forte di prima Poi Abbiamo finalmente Finito tutte le domande Del nostro signor Matteo Alleluia Adesso Passiamo ad Eren Che mi chiede Che mi chiede di cosa Ne pensi di fortnite E se lo preferisco Brawl Allora da piccolo Guardavo molti video di fortnite E mi piaceva Però Non avendoci mai giocato Non ti posso dire Onestamente di cosa Proprio ne penso Però mi piacerebbe provarlo Nel primo momento Il mio gioco rimarrà Sempre Brawl Ok Adesso possiamo Che mi chiede La mia top 10 amici Più forte che ho Allora Alla decennoposto C'è Matteo Ken Che sta a quasi A 58.000 coppe Poi al nono Peperone Zenn Non sbaglio sempre Su nome Che a 59k All'ottavo Spark Che anche lui A 59k Al settimo Gabri Che a 60k Al sesto Mickey Mega Che è quasi 61k Al quinto Paglino Che sta a 62k Al quarto Joe Che è offline Non so perché Che è da più di tre mesi Che mostra A 63k Ma il suo record Era di 64k Al terzo EG Che ha 67k Secondo Maxi Con 71k E al primo Come detto prima E Alex Con qua A 63k Forse c'è anche arrivato Non lo so Poi Mickey di votare A 1.10 La tua intro Bene Guardiamola Beh allora Ti devo dire Molto bello L'editing Quindi Approvato Ti do Un 9 Non mi convince Molto Ecco Cioè beh È bellissima Bellissimo L'editing Però Ti voglio dare 9 Motivo Non lo so 9 Perfetto Abbiamo finalmente Finito tutte le domande Spero che il video Vi sia piaciuto Questo Vuoi servire Che mi avete richiesto Da tantissimo tempo E niente Ci vediamo Al prossimo video Ciao